Oltre 12 milioni di olandesi stanno andando alle urne per il rinnovo della Camera Bassa, dove siedono 150 deputati. Al centro del dibattito politico c'è soprattutto la crisi economica, che per la sua gravità ha messo in secondo piano l'altro grande tema al centro del confronto fra i partiti, cioè l'immigrazione. Stando ai sondaggi, gli olandesi tenderebbero a preferire chi in economia propone misure drastiche per uscire dalla crisi. Al momento, infatti, appare favorito il Partito Liberale, Di Mark Rutte, che sempre, secondo i sondaggi, dovrebbe assicurarsi una quarantina di seggi su 150. Il programma liberale prevede di riturra a zero il deficit pubblico entro il 2015, dimezzare il numero dei ministri e innalzare l'età pensionabili dagli attuali 65 ai 67 anni. Fuori dai seggi dell'AIA, gli elettori che hanno votato per lui, anche giovanissimi, spiegano che l'Olanda ha bisogno di cambiare e che i liberali sono perfetti per rimettere a posto l'economia. Risulterebbero intanto assai distanziati i cristiani democratici del premier riuscente Jan-Peter Balkenend, che dovrebbe ottenere 25 deputati contro i 41 attuali, e che si vedrebbe superato anche dal partito laburista, guidato dall'ex sindaco di Amsterdam, Jacob Cohen.